Si è tenuta sabato mattina presso l'hotel delle Rose a Pestum la conferenza stampa di presentazione del premio Salvatore Appadula, giunto quest'anno alla sua sesta edizione. Un ritorno di questo evento sportivo tanto atteso che dopo lo stop forzato causa pandemia ha ripreso a pieno il lavoro svolto durante questi anni, con la serata dell'8 giugno prossimo che vedrà salire sul palco tanti personaggi sportivi di spessore. Ci saranno i fratelli Dario e Francesco Di Leo e Giorgio Napoli, testimoni di eccezione con le loro storie di passione e forza di volontà. Riconoscimenti anche per l'ex calciatore professionista Rosario Ristanio, padre di Gaetano Pio, fresco di convocazione nella nazionale Under 21, per il giornalista Tommaso D'Angelo e il presidente della Gelbison, neopromossa in Serie C Maurizio Puglisi, così come per la Salernitana, calcio femminile anch'essa promossa tra i professionisti e la storica bandiera del Napoli Giuseppe Bruscolotti, vincitore del premio e storico Scudetto Partenopeo, nel corso della serata che si terrà all'Agri Pestum dalle ore 20 e 30, spazio anche ai ricordi con un tributo a Raffaele Fasolino, protagonista importante del calcio giovanile di Capaccio Pestum, oltre all'annuncio del vincitore del premio. L'edizione di quest'anno dunque volgerà lo sguardo sul sociale con i numerosi ospiti che porteranno al pubblico presente le loro storie e i loro racconti, a coronamento di un impegno dell'associazione che nonostante l'interruzione dell'ultimo periodo è continuato senza soste e con sempre più dedizione.